L'Unione da Speranza, Solidaristandia, con questo motto tante associazioni della nostra città in collaborazione con l'amministrazione comunale hanno promosso il sabato 5 di dicembre e sabato 12 dicembre una raccolta di genere alimentare preso gli esercizi commerciali e i supermercati della nostra città. È un gesto concreto di solidarietà e questo credo renda lo spirito autentico delle feste, del Natale. I parroci rappresentano il megafono dei quartieri della città e a tutti loro va il mio più sentito grazie per il contributo essenziale che stanno formando in questo momento di grave emergenza sanitaria e socio-economica. Noi saremo al fianco dei parroci, delle associazioni, della Caritas e di tutti quei volontari che hanno aderito all'iniziativa Solidaristabia. Sabato 5 e sabato 12 dicembre siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, a dare il nostro piccolo contributo alla causa. L'Unione da Speranza Solidaristabia L'Unione da Speranza Solidaristabia L'Unione da Speranza Solidaristabia L'Unione da Speranza Solidaristabia Solidaristabia L'Unione da Speranza 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 Solidaristabia Grazie per la visione!